Ciao bambini, voi come state? Spero che state bene in questi giorni che state a casa con la mamma. Sapete che è iniziato il mese di maggio, ecco perché ce l'ho la madonnina qua vicino a me. Adesso vi ho preparato una scheda che voi ripassate il tratteggio e poi la madonnina colorate il velo azzurro e il vestito rosa. E poi qua sotto c'è la preghiera che adesso dico insieme con voi, che facciamo durante il mese di maggio. O madonnina dal manto azzurro, sorride e ascolta il piccolo mio canto. Con le tue bianche mani benedici i buoni e i tristi che non sono felici. Proteggi il babbo, la mamma e la casa mia. O dolce Pia, o Vergine Maria.